Sensibilizzare i grandi e piccini attraverso un piccolo spettacolo teatare per far capire cosa significa, attraverso un linguaggio semplice, cosa vuol dire essere autistici. E questo è il senso dell'iniziativa che si è svolta a Lecce presso le officine Cantelmo e organizzata dall'associazione Anna e Balter, che ha mirato a rafforzare questo messaggio affinché possa arrivare forte e chiaro non solo ai più piccoli ma anche ai genitori. Sì, volevamo mandare un messaggio di inclusione sensibilizzando la tematica dell'autismo. Quindi abbiamo organizzato insieme all'associazione Anna e Balter che rappresento e a Luisa Frassanito che rappresenta i Lions Club Lecce di Toschipa uno spettacolo dedicato a tutti i bambini e anche i grandi. Uno spettacolo che faccia riflettere e faccia anche civilizzare ancora di più il nostro territorio.